Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova video recensione. Eccolo il suono di avvio in VirtualBox di una distribuzione Linux passata, ovvero la 9.10, chiamata in codice Karmic Koala. Perché questo video? Perché volevo con voi ritrovare, andare a vedere le vecchie versioni di Ubuntu e tra quelle che appunto a me piacciono molto di più, quelle che piacciono molto sono appunto la 9.10. Andiamo subito a vedere, l'ho fatta partire in VirtualBox e come vedete nel lato destro dello schermo ci sono scritti i punti principali della distribuzione e delle caratterizie di questa distribuzione. Come vedete la 9.10 è uscita ottobre ovviamente perché è come indicato dal nome, 9 sta per 2009 mentre invece 10 per il mese. Il giorno di rilascio effettivo fu il 29 ottobre del 2009. Il supporto è stato sino al 30 aprile del 2011. Ora, quali caratteristiche ha portato questo sistema operativo? E' stato introdotto praticamente il grab 2 che era completamente differente da quello precedente. L'impostazione di installazione predefinito non era più il file system xt3 ma è diminuto il 4. Il tempo di boot è stato migliorato velocizzato e inoltre in particolare importanza lo si dà al fatto che sia stato modificato il programma, il famoso programma di aggiungi rimuovi con l'ubuntu software center. Infatti ecco vedendolo da qui vedete che il sistema operativo praticamente era così formato. Diciamo che a livello grafico era, portava un tocco di novità. Tendeva un po' più al giallino, come vedete, sia dallo sfondo che dall'icone. Presentava particolari adattamenti che non erano presenti nelle altre versioni, come ad esempio qui in alto le icone riguardo alle notifiche, al volume e alla connessione furono cambiate, tanto più il tasto qui in alto che introduce appunto la possibilità di gestire il proprio account appunto con la sessione e il logout e così via direttamente da un punto centrale. Insomma ecco, al posto del nome ubuntu poi sarebbe apparso il nome dell'utente e sarebbe stato possibile poi settare anche, rispetto alla messaggistica, il corrispettivo stato, ovvero occupato, in linea e così via. Andiamo a vedere un attimo più che altro i programmi che erano presenti in questo sistema operativo. Abbiamo detto appunto che il programma aggiungi rimuovi fu completamente modificato e fu aggiunto l'ubuntu software center. L'ubuntu software center alle prime armi era comunque praticamente un miglioramento del programma aggiungi rimuovi, non presentava particolari novità, se non che vi era una maggiore facilità nella gestione dei pacchetti sia dei software che dei pacchetti che erano un po' più complicati. Seppur per poter gestire quei stessi pacchetti complicati occorreva comunque andare sul sistema, amministrazione e avviare il Synaptic Package Manager. Insomma, le novità ovviamente non sono solo queste a livello effettivo, magari ci fanno anche altre novità, queste sono ovviamente le più importanti. Ubuntu 9.10 Karmic Koala fu molto apprezzato tra le varie distribuzioni e tra le varie versioni di Ubuntu. Nonostante non era un LTS comunque fece grande notizia il fatto che ci furono tanti miglioramenti e che comunque sia si comportava veramente bene. Era accattivante sia esteticamente, anche per la schermata di boot, sia per il fatto che comunque sia aveva queste novità appunto che vi ho prima citato ed è una migliore stabilità rispetto alle versioni precedenti. Vedete che nella cartella home o comunque nelle altre cartelle potete benissimo osservare come le icone stavano cambiando. prima erano di un altro tipo, queste erano le prime icone che assomigliavano a quelle human che ci sono appunto apparse dopo nelle altre versioni, come ad esempio quella che sto utilizzando io adesso che ho installato la 10.04 dove invece il colore, potete vederlo, è completamente arancione, ma di base si tratta delle medesime icone. A parte comunque queste questioni estetiche il sistema operativo si comportava molto bene, aveva una versione di nautilus come vedete dalla 2.28 che appunto consentiva un miglioramento nella gestione dei file, ovviamente più stabilità, ma tendenzialmente il sistema operativo fu un sistema operativo molto apprezzato per la sua velocità nell'avvio e nella sua capacità di rimanere relativamente stabile. Ovviamente poi rispetto alle versioni precedenti come la 9.04 presentava anche maggiore adattamento perché vi erano caricati ovviamente nuovi driver per aumentare la compatibilità con altri dispositivi e maggiore compatibilità anche con le schede video. Ma sappiamo che con le schede video i driver migliori sono, o meglio la compatibilità maggiore che avviene tra Ubuntu o meglio Linux e le schede video è quella che vi è con le schede video Nvidia. Quindi ho voluto fare questo piccolo breve video di introduzione, o meglio di spiegazione e di presentazione di Ubuntu 9.10 semplicemente appunto perché ogni tanto mi piacerà fare dei video per poter riscoprire le vecchie versioni di Ubuntu. Particolarità anche sempre estetica la versione di cui voglio parlare è il tema Human che è cambiato. Human appunto nelle versioni precedenti si presentava più come questo che adesso qua è scritto, Human Clear Luxe, ma nella versione 9.10 appunto con Karmic Koala si ha questo marrone. Un marrone che praticamente non si presenterà nelle versioni successive come ad esempio appunto Ubuntu 10.04 che sarà una vera e propria novità. Quindi venne anche migliorato la versione del tema da Karmic Koala che aveva appunto questo aspetto molto scuro. Vedete? Comunque utilizzabile, non dà fastidio all'occhio, non c'è troppo contrasto e comunque molto accattivante. Ma a livello comunque sia funzionale l'importante è che il sistema appunto abbia ricevuto grandi favori dall'utente perché appunto come vi ho detto aveva grande stabilità e maggior velocità. Anche perché il file system ext4 si comportava veramente bene. Quindi ragazzi vi ringrazio ancora una volta per aver visto questo video, vi rimando alla prossima video recensione e ci vediamo per la prossima video recensione appunto su qualche altra versione o di Ubuntu o su un nuovo sistema operativo magari. Un saluto a tutti e arrivederci. Grazie 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 Grazie